Un vestito lungo, blu, monospalla, con uno spacco vertiginoso e un turbante retro. Si è presentata così Lady Gaga, accompagnata dal crooner americano Tony Bennett, a Bruxelles, per la promozione del suo nuovo album Cheek to Cheek, in cui c'è anche un duetto tra i due. Ho iniziato a studiare pianoforte classico quando avevo 4 anni, ha detto la cantante. Ho studiato canto lirico all'età di 11 anni e a 13 ho scoperto il jazz per la prima volta. Ho incontrato Tony Bennett per la prima volta a un evento benefico a New York. Mi ha chiesto se volevo fare un album insieme a lui. Sono stata così onorata e mi sono domandata se per lui avessi cantato jazz da una vita. Cheek to Cheek è arrivato negli store digitali in tutto il mondo il 22 settembre per approdare il giorno successivo sugli scaffali dei negozi. Sono molto onorato per questo duetto, ha detto Bennett. È qualcosa che resterà impresso nella mia mente per tutta la vita.